A quattro anni dalla separazione, Alena Seredova ha compiuto un passo fondamentale nella sua vita. Ha lasciato infatti la casa che aveva messo su con l'ex marito Gigi Buffon per trasferirsi in un'altra, sempre a Torino con i figli. Ho sentito il bisogno di farcela da sola, ha confessato la compagna di Alessandro Nassi sulle pagine del settimana Lechì. Voglio prima essere sicura che posso stare al mondo da me, ha poi aggiunto la quarantenne in cerca di autonomia. Ora ha ritrovato la serenità, però l'abbatosta ha confessato è stata dura da superare. Mi sono impegnata a sorridere, ha svelato, poi non ha escluso del tutto l'idea di avere un figlio a 40 anni. Niente è escluso, ha infatti detto, ma ho la responsabilità di due ragazzi che sono i miei figli. Grazie a tutti.